Salve a tutte, salve a tutti, questo è un video come promesso su come funziona la nostra pelle. Perché è così importante sapere come funziona la nostra pelle? Perché se uno vuole veramente risolvere un estetismo, un problema o vuole essere sicuro di usare il prodotto adatto alla propria pelle, è importante sapere come funziona e come dovrebbe agire un determinato ingrediente sulla pelle. Ora, scusate pelle, 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 ma di questo stiamo parlando. Si parte da quella che è la base, spero di usare un linguaggio il più semplice possibile e se così non fosse come sempre, tanto lo fate spesso, scrivetemi, brontolatemi, correggetemi. Allora, innanzitutto questo è il mio schemino di sempre, questa è la nostra pelle, questa è la nostra parte superficiale. La prima domanda che uno dovrebbe porsi è a cosa serve la pelle, cioè perché è stata messa lì questa pelle? Perché da lì parte tutto l'inestetismo. La nostra pelle è un organo, una pellicolina, uno strumento di difesa interposto, cioè messo fra il dentro e il fuori. Quindi, a cosa serve? Serve per difenderci dagli agenti esterni, in particolare i raggi UV, perché i raggi UV danneggiano la cellula, proprio il DNA della cellula, il cuore della cellula. Poi servono per adattarsi agli agenti esterni intesi come freddo, caldo, vento, quindi c'è un costante, scusate, adattamento con la porzione giusta di acqua che serve. Mi spiego meglio. Se sono in un ambiente umido, naturalmente ho bisogno di trattenere meno acqua, perché ne ho tanta intorno a me. Se c'è molto vento, sono in un ambiente molto asciutto, tipo tutto il giorno sotto un termoventilatore di caldo o di freddo, ovviamente ho bisogno di una maggiore quantità di acqua. Stessa cosa per difendere dai batteri. Quindi le tre azioni di difesa sono i raggi UV, una termoregolazione di questo costante movimento di acqua fra dentro e fuori, e poi la difesa dai batteri, perché naturalmente attraverso la pelle, attraverso ai pori, i batteri possono entrare in contatto con delle strutture importanti. Detto questo, innanzitutto ragionare e pensare. Se io in una pellicola, che deve essere in diretto contatto con l'ambiente, applico una plastica, che sia silicone, che sia acrilico, che sia paraffina, che sia un derivato del petrolio, comunque tutto so che non è compatibile con l'ambiente mio, ambiente pelle, è ovvio che io ho una azione, una interazione fra dentro e fuori che è falsata. Perché ovviamente c'è una pellicola che si interpone fra me e il fuori. Questo interporsi spesso è proprio un po' disturbante, un po' distruttivo. Perché? Perché questa interposizione non solo è un filtro fra me interno e esterno, ma mi crea una falsa idratazione. Perché? La pellicola, soprattutto se è fatta di ingredienti filmogeni, la pellicola che si crea fa sì che quest'acqua venga intrappolata sotto questa pellicola. Quindi il mio interno percepisce una falsa idratazione. Falsa idratazione che destabilizza, cioè manda proprio fuori dai gangheri tutto il mio sistema di adattamento della superficie. Quindi quello che abbiamo detto prima, mi adatto all'esterno con più acqua e meno acqua, va a farsi benedire. E lì si innesca lo start up della prima infiammazione. Quindi si innesca quel tilt che ha una sua reazione a catena, perché io quando ho una alterata porzione di acqua, tutto questo murettino salta. Perché salta? Questo murettino è fatto, vedete questi quadratini? Questi quadratini sono la mia cheratina, cioè le proteine della mia pelle. Da qua avete sentito anche la cheratina dei capelli, no? La cheratina, noi siamo tutti cheratinizzati. E la nostra pelle quando si parla del rinnovo, del ricambio ogni 30 mesi, altro non è che il rinnovo di questo strato di cheratina. Per rimanere insieme, perché se no queste proteine salterebbero su, no? Sarebbero, non sarebbero completamente allineate e ben saldate. Abbiamo fra ogni mattoncino di cheratina del grassino. Questo grassino, che si chiama in termini tecnico lipidi intercorniocitari, questo grassino cosa fa? Mantiene questa, che è la barriera cutanea, integra. Quindi quando si parla di integrità e di barriera, si parla di questo. Quindi questi mattoncini di cheratina, ben saldati da questo fosforescente che vedete, che tiene insieme questo murettino. Grazie a questo murettino, io ho la giusta e corretta evaporazione di acqua. Nel momento stesso in cui io metto una pellicola qui sopra, o detergo con un prodotto sbagliato la mia pelle, quindi portando via questi grassini, questo muro salta. E quando lui salta, si attiva negli strati più profondi, un'infiammazione all'inizio accusa e poi cronica, quindi un'infiammazione che si cronicizza nel tempo, dando origine a tutti gli inestetismi che poi comunemente trattiamo. Poi cosa succede? Io per trattarli cosa prendo? Una crema che casomai contiene delle sostanze di sintesi che altro non fanno che aumentare, incrementare questo definito disagio di barriera. Passiamo invece alla nostra protezione nei confronti dei raggi UV. Se io oltre alla pellicola metto sempre dei filtri solari 360 giorni l'anno in una pelle che è geneticamente creata per difendersi dal raggio UV, perché noi abbiamo un nostro sistema che è la melanina, un nostro sistema antiossidante, che se io lo sostituisco con l'applicazione quotidiana di un filtro solare, cosa faccio? Come tutte le cose, se io mi metto le stampelle o smetto di camminare, i muscoli delle mie gambe cosa fanno? Smettono di lavorare e si atrofizzano completamente. Quindi perdono l'abitudine di difendere. È per quello che tutte mi chiedono ma allora ora con B solo lo metto il filtro? No! A meno che ovvio vado al sole, vado in montagna, so tutto il giorno spiaggia, ovvio che sì, perché lì diventa un super lavoro, non è la quotidianità. Ma quando mi dicono ma a gennaio come vado senza fuori, fuori senza filtro, certo che vai fuori senza filtro, anche a luglio se devi semplicemente stare quell'oretta che ti serve in pausa pranzo e vai a fare due passi con un'amica. Quindi risposta nei confronti dei raggi del sole va mantenuta attiva, perché se io applico crema di sintesi che contiene un filtro solare costante tutti i giorni e per di più spesso con me succede un filtro non fotostabile, ovvio che io avrò problemi di melanina e di infiammazione sempre. Quindi se io sto trattando le mie macchie e non risveglio il mio sistema difensivo nei confronti del sole, io non risolverò mai il problema delle macchie. Stessa cosa le acne. Perché le acne? La mia difesa nei confronti delle acne è data dal giusto pH, dalla cheratinizzazione e dalla secrezione sebacea. Se io altero il pH con una detersione aggressiva, cosa che spesso chi soffre di acne fa, quindi la detersione aggressiva cosa faccio? Cioè la pelle, associo acne a pelle grassa e cosa faccio? La sgrasso. Invece la secrezione del grasso altro non è che il tentativo vano della pelle di ristabilire la corretta acidità. Quindi io più la sgrasso e più produrrò sebo. Non solo. Che succede? Questa cheratina che di normale via via arriva allo strato nuovo si sfalda quando io ho un disagio di barriera, ha uno sfaldamento alterato. Cosa succede quando mi si forma un acne? Che tutte queste cheratine si fermano intorno al poro della pelle, lo ostruiscono e il batterio, il principale responsabile delle acne che è il proprio no batterio, ad ora sguazza negli ambienti con sebo e poco ossigeno. Quindi se io ci faccio un tappo di cheratina e sotto ho una secrezione sebacea che si è accentuata per difesa e ci metto un tappo di cheratina sopra. Secondo voi questo proprio no batterio cosa fa? Esplode, impazzisce, prolifera, si diffonde. Ecco perché il nostro start up sulle acne è sempre una corretta detersione con idramil cleanser e una corretta idratazione per mantenere integra la barriera. Più è integra la secrezione sebacea si calma. Quindi detto questo, per capire come funziona la pelle bisogna sempre partire da perché abbiamo la pelle. Per queste tre cose, difesa dei raggi UV, difesa dei batteri, adattamento alle condizioni esterne. Quindi iniziate a ragionare con la vostra testa, no? Quello che dice la pubblicità ma anche quello che diciamo noi, siamo anche noi un'azienda. però portiamo sempre dei dati inopinabili. Quello che vi sto dicendo io lo trovate sui libri, lo trovate su Wikipedia, lo trovate su un testo scientifico importante come su un testo semplice. E funziona così la pelle, nessuna azienda lo può cambiare. Spero di non essere stata troppo noiosa, lo so, sono più di dieci minuti, mi dilungo sempre, però spero almeno che sia interessante o che le persone che veramente vogliono risolvere e migliorare la loro pelle lo abbiano apprezzato. Buona giornata a tutte e a presto, ciao!